E' un letterale battesimo del fuoco, quello dato da manifestanti filo-curdi allo storico ovvio del ritiro dei miliziani del PKK verso le basi del nord dell'Iraq. Il ritiro che, come annunciato a fine aprile da Abdullah Ocalan, comincia oggi per il partito dei lavoratori del Kurdistan, ma nella città di Jidre, nel sud-est della Turchia, le forze dell'ordine sono rimaste coinvolte in scontri con lancio di Molotov. I ribelli kurdi presenti nel territorio turco sono, secondo le stime, circa 2.000. Il loro ritiro verso l'Iraq è percepito da molti cittadini turchi della minoranza come una liberazione, una speranza per la pace. Siamo davvero speranzosi per questo processo di pace, non ne possiamo più, non vogliamo vedere nemmeno un morto in più. Turchi e kurdi sono fratelli, siamo uguali. Sono tanti i kurdi che, come questi abitanti di Pervari, nella provincia di Sirte, stanno cominciando a tornare nei propri villaggi d'origine, abbandonati proprio a causa del conflitto tra esercito turco e PKK, un conflitto che in 30 anni ha fatto circa 40.000 vittime.